Ancora una conferma e un roster sempre più definito. Francesco Pierri sarà il libero della Cosedil Saturniaci Castello nella stagione 2024-2025. Il giocatore pugliese, classe 99, nella scorsa stagione ha indossato la maglia della società castellese in Superlega, fornendo prestazioni positive tutte le volte che è stato chiamato in causa. Sono felice di tornare in Sicilia e di potermi rimettere in gioco, ha dichiarato Pierri dopo la conferma. La voglia di rivalsa è tanta, ha aggiunto, e io darò il massimo e lo farò con una squadra che già appare essere un gruppo dalle grandi ambizioni. Per me questa conferma è una grandissima opportunità, dimostrerò il mio valore e per questa occasione ringrazio la società. Ho potuto vedere quanto i tifosi tengano alla squadra, ha affermato ancora Pierri, e quanto il loro supporto possa fare la differenza. Sono felice di poterli riabbracciare e gioire con loro delle vittorie, che sono certo arriveranno.